carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi invochiamo all'inizio questa giornata la grazia del signore lo spirito di dio la sua presenza o spirito di dio che con la tua luce distingue la verità dell'errore aiutaci a discernere il vero dissipa le nostre illusioni e mostraci la realtà facci riconoscere il linguaggio autentico di dio nel fondo dell'anima nostra e aiutaci a distinguerlo da ogni altra voce mostraci la volontà divina in tutte le circostanze della nostra vita in modo che possiamo prendere le giuste decisioni aiutaci a cogliere negli avvenimenti segni di dio gli inviti che ci rivolge gli insegnamenti che vuole inculcarci rendici atti a percepire i tuoi insegnamenti per non perdere nessuna delle tue ispirazioni oggi la chiesa fratelli ricorda un grande santo spagnolo forza il più popolare dei primi secoli san vincenzo era un diacono della chiesa e il vescovo suo ne aveva dato piena libertà di annunciare il vangelo perché la sua parola era penetrante convertire i cuori e proprio per questo allora il vescovo e san vincenzo furono arrestati e il vescovo mandato in esilio e san vincenzo torturato in mezzo alle torture lui diceva fate pure vediamo che si stanca prima voi a torturare o io a subire e non si arrese fino a che morì distendi sotto le torture ma quando fu gettato in un fiume il suo cadavere rimergeva anche se c'era e vi avevano appeso dei sassi fino a che dei cristiani riuscirono a recuperare il suo corpo e a venerarlo e anche oggi è grande la sua fama in mezzo alla chiesa spagnola san vincenzo si lasciava guidare dallo spirito santo in mezzo alle persecuzioni non guardava il vantaggio se potevano salvare la propria vita guardava la gloria di dio e non si tirava indietro e oggi partecipa con gesù alla sua gloria come ha partecipato alle sue sofferenze bene fratelli siamo nell'ottamare di preghiere per l'unità delle chiese e la chiesa ci invita a tutti ad aprire il cuore all'amore dei nostri fratelli a riconoscere le opere di dio in tutti coloro che professano la fede in gesù cristo e non a combattarci ma a dialogare non per arrivare a farci convertire o noi convertire gli altri perché quello che il signore chiede è di andare tutti ai suoi piedi ai piedi della sua croce a riconoscerci tutti i peccatori riconoscerci tutti oggetti della sua grazia della sua misericordia se hai un don non mandarti l'hai ricevuto e se l'hai ricevuto perché te ne vanti scrive l'apostolo ecco allora la via dell'unità nella chiesa e la via della ricerca della parola di dio la via dell'umiliazione di tutti davanti alla croce di gesù per sottometterci alla sua volontà la croce vedete fratelli fatto di una trave verticale una trasversale come se fosse una bilancia la bilancia tende o a destra o a sinistra la croce invece la bilancia di dio dove pende pende al centro pende al centro a braccia destra e sinistra non scarta nessuno è la grande misericordia di dio che vuole penetrare nella vita di tutti e attirare tutti gli uomini nel popolo di dio e far sì che tutti gli uomini raggiungano il dono della salvezza e noi in questi giorni fratelli quando possiamo genocchiamoci davanti al signore chiedendo perdono delle divisioni che ci sono nella chiesa anche all'interno delle parrocchie delle comunità dei movimenti le divisioni dice l'apostolo paolo sono segno che non si vive secondo lo spirito ma si vive nella carne cioè si portano avanti i valori terreni i valori che sono legati a questa terra l'ambizione il successo la vana gloria dio vuole invece che devoniamo tutto questo per rivestirci di lui allusia gloria onore potenza per tutti i secoli dei secoli amen oggi nelle letture della messa fratella chiesa ci propone una prima lettura dal libro di samuele saul aveva combattuto sul mondo gherbo ma era stato sconfitto dai filistei e uno nel suo esercito che era scambata alla strage corse dove c'era l'accampamento di davide dovete camminare alcuni giorni e portò a davide della notizia che saul era morto e quando sa davide seppe della morte di saul che era il suo nemico e lo voleva morto e la morta è anche del figlio di saul jonata non si rallegrò non fece festa perché era arrivato per lui il momento di poter assumere la corona regale in israele ma pianse su saul e pianse sull'amico jonata l'amore al di sopra di ogni interesse è quello che dio chiede a tutti noi fratelli l'amore al di sopra di ogni interesse e quando poi quell'uomo dirà a davide che era stato lui stesso a finire saul con la sua stessa mano davide lo fece condannare perché aveva alzato la mano contro il consacrato del signore lui non aveva fatto questo ma riferì questa notizia a davide per carpire la sua benevolenza invece carpì la sua condanna e nel vangelo la chiesa ci presenta un episodio di gesù che era entrato in una casa e si arrodonò in quella casa tante di quella gente che non potevano nemmeno mangiare tanto erano occupati a dover rispondere alle esigenze e i parenti di gesù andarono a chiedergli di seguirli dicono questo gesù forse è uscito di testa forse si è invaguito del suo ministero che attira tanta gente e questo è il tentativo neanche i suoi parenti credevano in lui ora fratelli in questi giorni la chiesa ci fa celebrare la giornata della parola di dio perché papo francesco la terza domenica dopo l'epifania ha indetto questa giornata della parola di dio per invitare tutti noi a dirigere la nostra vita con la parola di dio a nutrirle di parola di dio ma la parola di dio va innanzitutto conosciuta la parola di dio va obbedita la parola di dio va annunciata la parola di dio va celebrata ecco allora che papo francesco ha chiesto a tutti noi in questa domenica come domani di celebrare questa giornata per comprendere meglio la parola di dio per innamorarsi della parola di dio e diffonderla e diffondere anche i testi della parola di dio perché tutti abbiano a conoscere la grandezza dello spirito santo di dio che viene donato a noi attraverso la parola e il primo mezzo per comprendere la parola di dio è l'obbedienza l'obbedienza a gesù cristo e infatti l'apostolo paolo in molte circostanze richiama ogni cristiano a praticare la parola di dio nella seconda lettera ai corinzi al capitolo decimo quando lui parla della battaglia cristiana da esercitare nella vita dice noi viviamo nella carne ma le armi in realtà noi viviamo nella carne ma non combattiamo secondo criteri umani infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali ma hanno da dio la potenza di abbattere le fortezze distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di dio e sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza a cristo la parola di dio è l'arma di dio signore gesù tu sei la parola di dio tu sei venuto ad abitare in mezzo a noi dona tutta la tua chiesa questo dono di saperti riconoscere di nutrirsi di te parole di dio fatta carne e di alimentarsi giorno per giorno di te pane vivo disceso dal cielo in questi tempi difficili per la chiesa ti preghiamo signore fa che la tua parola sia diffusa abbondantemente e che tutti i tuoi fedeli si nutrano di parola si nutrano di te che sei venuto non a giudicare a condannare ma a salvare a te gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen e tu vergine santissima che ti sei fatto serva della parola dicendo eccomi sono la serva del signore si faccia di me secondo quanto hai detto guida tutto il tuo popolo all'obbedienza alla parola a farlo della parola di Gesù tuo figlio pane vivo il pane quotidiano perché la nostra mente il nostro cuore la nostra anima sia nutrito di lui che il nostro signore è salvatore a lui gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen e la parola del signore fratelli in questi giorni penetra nei vostri cuori cercatela come si cerca l'aria come si cerca il pane come si cerca l'acqua quando si è in territori aridi cercate la parola di Dio come dice Gesù che ha sete venga a me beva chi crede in me come dice la scrittura fiumi da qua viva sgorgeranno dal suo seno e questa disse lui riferendosi allo spirito santo che avrebbero ricevuto i credenti in lui e la parola di Dio vi porti a inebrarvi nello spirito di Gesù amen